ciao a tutti ragazzi ho la voce che non va più quindi cerco di tenerla un po bassa e andare comunque a fare l'analisi dei giocatori che sono usciti ieri dedicati ai futur star come avete visto c'è l'aggiornamento nuovo quindi sono arrivati questi giocatori stelle del futuro ma andiamo a capire un po quali ha senso o meno valutare per andare poi a inserire informazioni ragazzi come sempre il follow a canotube mi raccomando e andiamo stavolta non in game ma andiamo sul solito a food bin in maniera da guardarceli tutti allora partiamo dal primo abbiamo un fran garcia terzino sinistro ma è buono peccato per il 3 3 mamma mia ragazzi già faccio più questa voce però va bene peccato per il 3 3 la riga santander spagnolo vabbè altamente ibridabile senza troppi problemi spagnolo della riga si può giocare è un po così buono tante sente recitazioni per formazioni chip legate a riga santander ci sta non è assolutamente male è un po troppo basso è un po troppo basso quindi ma le alternative sicuramente ci sono costa pochissimo quindi valutatelo in caso abbiate una liga da completare vediamo un po questo spence è un ala destra 3 3 ma anche qui 3 3 ragazzi a sto punto nel gioco un po troppo basso un po troppo basso lui gioca inglese gioca in francia buona l'agilità sicuramente questa una trentina di k nulla di anomalo nulla di anomalo buono comunque rapido valide anche questo è valido se lo trovate come non scambiabile come super sub è validissimo sicuramente molto buono stamina ah no ho detto alla destra perdonatemi è un terzino destro sto sfasando terzino destro 3 3 alto alto beh buono come work rate beh ci sta dai non è malvagio un buon terzino quanto è alto 1 84 buono ma per essere un giocatore difensivo non è male non è male short 82 buono agile no vabbè dai costa poco si può valutare si può valutare per libri d'abilità non è semplicissima però è buono allora poi abbiamo singo anche lui RB quindi abbiamo terzino terzino destro beh anche qui una buona alternativa in serie A del Torino costa d'avorio molto molto agile beh bello ottimo passaggio corto 3 3 3 3 3 3 un po così poi mi lamento nel 3 3 ma anche Hernandez però ovvio che è molto più forte però va bene così beh buono anche lui è un buon terzino belle alternative devo dire si può andare a chiudere tante squadre con queste alternative niente 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 male buono costa poco si può provare senza problemi 1 90 poi questo è il classico giocatore che terzino alto in difesa questo qui è il classico giocatore dicevo che come terzino potete spostarlo a fare il dc molto molto interessante magari avete una difesa a 3 e lui può essere il terzino che tenete a fare il dc in favore di un Hernandez che spinge dall'altra parte questo è ottimo assolutamente costa poco quindi si può provare poi abbiamo Diogo Costa portiere vabbè sui portieri c'è poco da dire Liga Portugal poco ibridabile vabbè non lo calcoliamo via Kalulu cominciamo con qualche giocatore davvero interessante sprint molto sprintoso scatto alto ottimo short passing 86 molto buono peccato per il lungo 72 però vabbè non è agilissimo equilibrio non è altissimo buone le intercettazioni lui può diventare allungato con ancora che non fa schifo assolutamente quindi io valuterei l'ancora su di lui perché l'ombra non gli da l'allungato ma fisico aumenta no io gli darei un bel ancora a lui eh così gli diamo anche il lengthy buono buono non è male diciamo che poi essendo del Milan francese con Hernandez si ebrida che è un piacere ma essendo poi francese si ebrida davvero bene quindi è da valutare da valutare ovvio non è come Tomori però molto molto interessante questo giocatore peccato per il debole che ha solamente due poi elanga rv però può giocare anche a sinistra buono attaccante laterale del manchester svedese quindi occhio e libidabilità 160k 3 di debole però molto molto agile anche questo altro giocatore classico da super sub ad esempio se lo trovate non scambiabile buono il finishing non è neanche male in fase di impostazione beh questo è fastidioso in esterno alto alto qui da una mano anche a livello difensivo buono peccato per l'explosive l'explosive si fa un po' recuperare però non è malvagio non è malvagio un try si può dare anche se non vi aspettate chissà che quali cose particolarissime andiamo a vedere Kudus ma 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 centrocampista avanzato è un po' 77 medio medio come work rate non mi dice nulla poi ibridabile davvero poco poco peccato perché non è male come velocità anche come dribbling è ottimo molto molto agile equilibrio 99 ragazzi questo è importantissimo così alta questa statistica molto molto buono cioè spostarlo lo sposti però non lo sbilanci cioè questo è molto molto buono il resto è un po' così però beh buono dai ci sta non è malvagio peccato che non troverà mai spazio causa ibridabilità però anche lui è molto veloce quindi super sub ci può stare poi guai o guai ma non saprei pronunciarlo in inglese quindi non penso ci sia l'accento finale però 4 di debole 2 di abilità porca miseria però è un cb quindi un difensore centrale ma 78 di agilità buone le intercettazioni sicuramente occhio questo qui è il classico giocatore fisicato neanche più di tanto perché non è altissimo 1.82 però è quel giocatore che non è rapido non è agilissimo occhio come l'ho fatto uscire non è malvagio assolutamente non è malvagio buone le intercettazioni dicevo buoni i passaggi beh buon giocatore dai ci sta non è caro ci può stare per una premier abbastanza neanche cheap buono nella media buono dai ci sta carino carino l'instrom è negli obiettivi quindi sbloccatelo a prescindere che è tanto gratuito male che va finisce in sbc si è scaricato il cellulare vitigna eh vitigna non è male vitigna non è assolutamente male centrocampista può fare il centrocampista avanzato e il cdc quindi triplo ruolo eh non è malvagio non è malvagio per nulla davvero non è malvagio per nulla a 95 di agilità bilanciamento 90 quindi equilibrio 90 abbastanza rapido bevo un goccio d'acqua che sto crepando con la gola intercettazioni 95 85 e può diventare controllato se gli mettiamo ancora è è non è malvagio quanto è alto quanto è ah 3 di debole no non si può guardare 3 di debole no peccato alto alto peccato allora se il 3 di debole non lo sentite più di tanto è un buon giocatore davvero ottimo perché diventa molto molto forte a livello poi di a livello di mediana molto molto interessante non è alto quindi occhio perché è in stile cantè in stile verrati chimici eccetera molto molto interessante questo vitignia carino carino ci sta 350k questo è un buon giocatore altamente ibridabile perché del paris quindi ma pece l'abbiamo tutti quindi assolutamente si può ibridare senza problemi e insomma questo guardiol devo dire che è molto molto forte porca miseria l'eng di di suo quindi su next è già allungato croato della bundes quindi occhio e liberabilità 4 di debole insomma alto alto come work rate buono difensore centrale può essere anche messo come terzino quindi non è male 90 di sprint peccato l'agilità non è altissima però ci sta è un 85 non è non possiamo pertenere più di tanto 87 intercettazioni gli cacciamo un bel dov'è un bel shadow bell'ombra diventa questa è una bestia in difesa è una bella risposta i difensori che c'è in giro adesso porca miseria che bel giocatorino questo questo è forte e infatti costa 400 rotti k buono buono raga è guardiol è buono e poi ricordiamo che essendo della bundes qui c'è qualche c'è come si chiama Nkunku che è della stessa squadra quindi non è non è malvagio ci sta anche l'ibridabilità può starci Adeyemi Adeyemi bah ma 4-4 buono minimo sindacale raggiunto iper rapido bello bello ci sta molto molto agile Aperol Aperol 88 di fine buono buono questo Adeyemi ragazzi ne sa stavo morendo peccato per i passaggi molto bassi quindi occhio perché lui è il classico giocatore che deve segnare non è altissimo neanche il finishing però lo potenziamo io direi con un bel architetto io direi con il Marshman quindi con con il Marshman non metterei senza problemi mi piace buono questa Adeyemi ragazzi buono se avete una bundes e avete magari difficoltà a ibridare Bellingham ad esempio con lui diventa un po' più facile quindi buono buono ne sa vabbè fatti costa 600k è buono costa appunto per Bellingham ragazzi però è una bella punta è una bella punta 4-4 occhio 4 di skill ragazzi magari fate un po' fatica però qualche skill carina col 4 ci sta poi vediamo un attimino vediamo un attimino devo alzare un minimo il volume di Spotify ok poi abbiamo Modric un milione e mezzo ah beh del Chelsea laterale sinistro però centrocampista avanzato con 94 di velocità buono molto molto rapido 1,75 5 di abilità 4 di debole ottimo visione 94 buono 86 un po' basso lo short però ci sta molto molto agile non è malvagio anche lui non è altissimo come finishing però insomma questo è un buon giocatore che può fare un po' da regista non precisissimo però è un po' non è proprio una prima punta non è proprio un regista è una seconda punta ne sa non è malvagio ci sta infatti costa uno sproposito sicuramente si abbassa però buono questo è forte molto forte se lo sbustate provatelo vediamo un po' Gavi Gavi pardon centrocampista avanzato può fare anche l'ala beh buono sicuramente in fase di impostazione short 98 mamma mia 99 eh buono buono questo è buono porca miseria ottimo regista questo questo qui è veramente un'ottima seconda punta che cavolo e non costa neanche uno sproposito per quello che è buonissimo quanto è alto 4.4 1.73 un po' basso alto alto questo è buono buono ragazzi se avete modo di ibridarlo spagnolo quindi se avete Ramos sicuramente qualche qualche spagnolo ce l'avete magari in formazione avete bloccato Tor perdone avete sbloccato l'icona che mi sfugge il nome adesso spagnola quindi potrebbe starci Alonso Xabi Alonso insomma no questo è buono molto buono seconda punta ottima ottimo ottimo davvero poi abbiamo Alvarez del Manchester City forte questo qui lo potete sbloccare anche nei momenti avete la la versione in prestito se lo provate è davvero interessante 5 di debole 4 di abilità lo limita leggermente ma è molto molto forte non è altissimo alto alto è ottimo il work rate sottoporta è sempre lì agilità bilanciamento equilibrio ottimo buon giocatore molto equilibrato quindi ne sa provatelo provatelo nei prestiti poi 2 milioni sono tanti sono tanti davvero 2 milioni però diciamo che non è non è malvagio allora di giocatori forti forti di questa di questo di questo aggiornamento c'è una fatica bestiale sicuramente Alvarez Gavi Mudrik Guardiol mettiamoci anche degli Emi però un po' meno e mi piace Calulu per il resto sono un po' così però ci sta nel senso che non possiamo pretendere giocatori iperforti a livello globale quindi abbiamo dei giocatori che possono essere messi nelle varie formazioni con diversi tipi di investimenti quindi devo dire che qualche piccola chicca la trovate tipo Singo non è male per chiudere una serie ad esempio però ci sta ci sta un buon aggiornamento siamo rimasti un po' delusi dalla assenza di Kvara del Napoli però c'è da capire se ne sei conti ma arriverà spero di sì perché non ha senso non vederlo ragazzi con la mia gola che sta bruciando in maniera incredibile mi raccomando fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcuno se avete provato qualche giocatore di questa campagna di questo aggiornamento e come vi trovate come sempre non ce la faccio più follow il canale mi piace al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti